Ciao a tutti, benvenuti in questo video, oggi le pagelle, invito sempre a mettere like al video e iscrivervi al canale Allora ragazzi, ieri prestazione perfetta, al primo tempo magari giustamente la Roma quando ha avuto un po' di fiato, nei polmoni, un po' di corsa Magari qualche problemino l'ha creato, aveva più possesso di gioco, ok, però tutto sommato noi non abbiamo, a parte un colpo di trezza di zecco, non abbiamo subito niente Dunque, anche questa partita come quella con Lecce o Donnarumma, grandi interventi non ne ha dovuti fare essenzialmente Anche questo potrebbe dare un senza voto, la prestazione della difesa è stata ottima Io non so se magari su questi ritmi bassi che ci stanno un po' avvantaggiando da questo punto di vista, penso di sì Perché quando andremo a giocare magari con l'Atalanta, che ha un ritmo un po' più alto e con la Juventus, lì diciamo che schierà un po' l'asino, penso Comunque, vabbè, Atalanta che gioca a ritmi forse nati, io non credo ai discorsi di topi Comunque, raga, torniamo alle pagelle Io Donnarumma un voto non lo do, non lo do perché comunque non ha dovuto fare grandi interventi Conti, mi sento di dargli un 6,5, un'ottima prestazione, finalmente è stato convincente, si sovrapponeva spesso Difensivamente non è stato messo in grande apprensione, ma dopo una partita decente finalmente, dopo tanto tempo Anche se io resto convinto che la prossima stagione o fa la riserva o va prestato altrove Per quanto riguarda chi è il Romagnoli, io gli darei un 7 in coppia, perfetti Zego non ha visto mai palla, quando si inseriva Mkhitaryan, idem, riuscivono comunque, sia le palle alte A non lasciar passare niente, in marcatura perfetti, molto attenti e concentrati Dunque, un 7 ci sta tutto, sono stati perfetti, si può dire nulla Per quanto riguarda Teo Hernandez, Teo nel primo tempo, diciamo, ha dosato un po' l'energia Io penso che si sta dosando molto, anche perché con queste temperature e a quell'orario Diciamo, farsi 5, 6, 7, 8 sgroppate nel primo tempo, rischia nel secondo tempo di non avercene più Infatti nel secondo tempo comunque ha spinto molto di più C'era già un rigore nel primo tempo su un pestone ricevuto in aria E nel secondo ha guadagnato anche un rigore vincente Dove si è sovrapposto anche varie volte Teo Hernandez comunque, che mi sento di dirli, dargli un 7 Sicuro anche molto dietro, stavolta molto più attento, nulla da dire Per quanto riguarda il centrocampo, che sì, stavolta mi è piaciuto Mi è piaciuto perché ha giocato semplice Perché non ha sbagliato vari palloni Perché si è anche inserito con una semi rovesciata pericolosamente in aria avversaria Fisicamente è stato sempre abbastanza bello, intenso, rubato vari palloni Dunque, che sia un 7 si può dare tranquillamente Dunque, voti molto alti Anche se quando i ritmi si alzeranno sono convinto che lo stesso che si andrà di nuovo in difficoltà Quando bisogna giocare la palla in velocità non è per lui Benasser, diciamo, non ha grandissima prestazione, nemmeno errori Però ha recuperato vari palloni a fine partita Ho visto che ha avuto 6-7 palloni recuperati importanti a centrocampo E poi ha fatto ripartire l'azione A me piacerebbe vedere un pochino un po' più lanciato in fase offensiva Dove potrebbe arrivare anche al tiro, perché ce l'ha il tiro Dunque, un 6,5 sicuramente lui Per quanto riguarda Castillejo Il nostro Castillejo si può dare tranquillamente un 6,5 Comunque, in fase difensiva sempre raddoppiato Si è sempre sovrapposto Magari non pericolosissimo in avanti Però comunque non lascia mai mancare l'intensità nelle sue prestazioni Dunque, un 6,5 ci sta tutto Poi è uscito Perché comunque, ormai, in ogni partita lui dà il massimo Non ne aveva più Cianoglu Cianoglu, mi sento di dargli un 7 Anche questa partita Sempre presente nelle azioni chiave Molto preciso sulla tre quarti Abbastanza, magari dovrebbe andare più al tiro Però comunque, giocatore che Sta migliorando Cioè, sta migliorando Forse vedendolo giocare dietro le ponte Il ruolo che ricopriva Castillejo e al Bayern Leverkusen Si sente più a suo agio Si vede, gioca con più sicurezza Non perde palloni, soprattutto Passaggi filtranti di buona fattura Trasforme rigore Chi chiude la partita Sette Buonaventura, invece, mi sento di dargli un 5,5 Si, impegno ma Non ho visto Obiettivamente un Jack Reprensibile Forse è un'unica nota negativa Sicuramente È anche comprensibile che abbia anche la testa Ma quella che sarà una sua prossima avventura La sa che ormai i giorni al Milan sono contati Rebic Sette Timbra di nuovo il cartellino Grande lavoro in fase di non possesso palla Cosa si può dire? Anche senza Ibra segna Avevamo dubbi Ma il ragazzo comunque Mentalmente È bello concentrato Senza palla si inserisce sempre bene Si fa trovare al posto giusto Al momento giusto Perfetto Leao, 4 Entra, prova subito un numero Incischia Perde la palla Entra sempre come al cazzo Io spero che Leao ce lo leviamo dalle palle Io sono convinto che Col tedesco che arriverà ad allenarci Quello sarà il primo Che se ne andrà insieme a Calabria E io spero che essi comunque Vabbè Selemeker, 7 Entra benissimo in partita Una partita comunque Con giocatori della Roma Abbastanza stanchi Selemeker è stato una spina nel fianco Non è un top Ha 21 anni e giovane Magari Diciamo È un prospetto di giocatore Da costruire Non ci sono colpi Che ci fanno pensare Che diventerà un top Però magari un buon giocatore Da turnazione Turnover Ci potrebbe anche stare Paqueta Io gli do 7 A questi ritmi bassi La qualità di Paqueta Si vede Sombreri Numeri Non fine a se stessi Stavolta Palle filtranti Di ottima fattura Volenteroso Dunque Il 7 Ci può stare Tranquillamente Pioli 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 è un discorso Un po' diverso Perché Pioli è entrato in corsa Ha preso una squadra Non su Un mercato non fatto da lui Una preparazione Che ha dovuto rifare lui Dunque il lavoro Che si è trovato a fare Non è semplice Dunque che Pioli Stia facendo Per me Non un grandissimo lavoro Ma un buon lavoro Perché la squadra Comunque gioca Un calcio offensivo Un pressing organizzato Fisicamente Bella in palla Ci sta Questo però Non ci deve Fare eludere Dal Problematiche Che ha Il Milan Come Rosa E che Come anche più Lì stesso Insegna la sua carriera Sempre partito bene Nei club che ha allenato Per poi spegnersi Dunque ormai Abbiamo intrapreso Un progetto con Ragli Che andrà Seguito Quello Allora questo è tutto Fatemi sapere Se ne pensate Vi ricordo sempre Di seguirvi Iscrivetevi al canale Vanno un abbraccio Ora pensiamo Alla partita con la Spal Dobbiamo vincerla Perché poi abbiamo Il trittico Lazio e Juve E là ci dobbiamo Fare segno della croce Non tanto per gli avversari Ma quanto per le arbitri Perché vedendo la Lazio Come ultimamente Gli sta andando La Juve La sappiamo Saranno Cazzi Amari Ciao ciao raga Forza mia